È stata presentata il 4 novembre a Palazzo Lascaris la mostra fotografica Un fiume di ricordi, l'alluvione del 4-5-6 novembre 1994 nelle foto di allora, con le istantanee di 10 fotografi che seguirono la sciagura. L'esposizione itinerante è allestita ad Alba dal 5 all'8 novembre e poi entro dicembre viene esposta la sede dell'Arpa di Torino ad Alessandria, Castagnole delle Lanze, Farigliano, Pino Dasti, Ceva e Lisio.